Allora, prima del gruppo indiano abbiamo fatto mezz'ora di Damurio a De Sarantelle, adesso riprendiamo noi, faremo un pezzo che è un piano benato che c'è delle ricerche negli anni 70 sul brigandaggio, invece questo pezzo che è bello, che piace a pareti, che si chiama brigandaggio ma ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.